no 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 ma cos'è questa la mia nuova bicicletta ma non posso credere avete visto anche le ruote ma che bici è con le ruote ma non ma questi modelli qua di bicicletta non hanno le rotelline dietro no si usa così è normale e senza pedali questa è senza peda senza cosi dietro cos'è questa roba qua cos'è questo numero le marce la mountain bike ma che marcia ora mountain bike mountain bike a mountain bici ha capito che si chiama mountain bike è mountain bici è vero può essere mountain bike bici inglese inglese no mountain bici o bici da montagna forse anche bici da montagna comunque volevo farti vedere a tutti i nostri no questi in bici qua una bella la bella bici nuova è una bella bici nuova qua proviamo che possiamo raccontare cosa è successo oggi sì sì allora praticamente praticamente volevamo andare fare un giro in bici da soli noi due per le ruote sì per le stradine e la tipo del dove si gioca a calcio nel canale poi differente dai in un paesetto qua in centro sì praticamente abbiamo visto tantissimi motociclisti i biciclisti no i biciclisti no i ciclisti no e che andavano avanti erano tipo trenta poi proprio ha detto vai vai andiamo adesso e gli diceva vai 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 andiamo adesso poi siamo andati e ci hanno portato fino a qua e ci hanno portato in questo posto qua volevamo andare la dei stagni però facevano il picnic avevamo fame quindi siamo venuti qua e adesso vogliamo fare il video che andiamo in bicicletta e torniamo a casa e torniamo in video sì ma anche perché non era nostra intenzione insomma fare il giretto così lungo eh abbiamo messo questi qua aiutate i marchi dai vai con loro vai con loro ma come? papi me l'ha detto e io ho detto vai con me e poi poi ho detto ok è bellissimo poi papi ha superato tutti siamo andati un po' più avanti e io ero prima poi papi era dietro di me prima c'è non prima seconda insomma eravamo a circa metà gruppo dopo la fine no metà gruppo adesso loro si sono fermati a fare picnic noi che picnic non abbiamo neanche da bere ci siamo fermati qua in un posto stranissimo a prendere da bere e poi torniamo a casa torniamo a casa perché neanche sapevamo che venivano abbiamo avuto una fortuna non è che si può andare in mountain bike con le ciabatte eh con le ciabatte qua è un poco difficile fare ma perchè ti sei messo le crocs? eh beh perché volevo solo fare un giro giù in centro non è che pensavo che questi qua abbiamo trovato questi che ci portavano fino chissà dove oh e poi alla fine erano tutti coccolissimi eh abbiamo fatto amicizia abbiamo fatto amicizia ci sono accorti che ci siamo uniti a loro così all'improvviso eh sì perché dopo 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 un po abbiamo abbiamo cominciato a parlare eravamo gli unici che parlavamo sì 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 erano tutti quindi noi e poi e poi noi praticamente praticamente ce l'ha sempre a dire praticamente eh allora mio papà ogni volta mi dici perché dice ogni volta praticamente eh ogni volta dico io praticamente eh oh marina marina guarda guarda i cigni perché c'è un foglio per terra 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 vuoi vederlo eh ciao ci vediamo intanto mi prendo la ciabatte io qua che aspettami e che aiuto Pak dance incidente aiuto aiuto guardate benissimo aiuto ho perso la gamba, ah non la ciabatta si sta bene con l'ombra però eh, si sta bene, arrivo Marghe, forse ce la faccio, aspetta, aspetta eh, forse ce la faccio questa ciabatta non è indicata andare in bicicletta, segnatevelo sull'agenda, arrivo, ecco, spero di non cadere cigli, cigni o sono di questo non era un foglio non un foglio, cosa era? una scantelletta la buttiamo via vieni, vieni dai, vieni dei cigni, vieni viieni che magia che mi sono fatto ciao ciao bimbi ciao bimbi dove vanno? vieni qua che partiamo dai! guarda guarda che loro ci hanno portato nel stesso posto in cui abbiamo incontrato Siren Head avevamo incontrato Siren Head nell'altro video ti ricordi? non voglio saperne oggi è una bellissima giornata guarda guarda guardate sangue qua sangue qua guardate io non devo tornare fino a casa come faccio a pedalare con questa ferita altri ciclisti arrivano altri ciclisti ci vediamo adesso partiamo adesso partiamo allora ho deciso di fare una gara è una gara ma dove vai? a partire da qua? partenza aiuto aiuto sto vincendo io eh e che marcia sono? 4 2 2 3 guarda che bella c'è come cavolo fa? ma come fai? eh? eh non arrivo sto vincendo sto vincendo sto vincendo cos'era? ecco 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 non si può entrare qua non si può entrare da 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 oh 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 dipendo 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 non ce la faccio? ma quanto corri? tanto? eh? tantissimo si stanno mi fanno ma non cacciarmi la strada va bene ah ah ti ho superato ti ho superato ah no 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 ma possiamo entrare qua dentro per il sentiero? che dici? non si può? è chiuso? è chiuso? è chiuso? era aperto lì era aperto ma va bene andiamo avanti no 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 ho che paura questo è il posto dove c'era Siren Head margher non hai sentito Siren Head no andiamo via che è meglio andiamo via ahhhhhhh cosa è questa pavola? posso aprirla? si apre posso chiuderla? no com'è? si è fermata proprio qua dove c'è il nido d'appi c'è un nido d'appi ok torniamo indietro no no vabbè aspetta ormai c'è il nido d'appi carezzano un pochettino dai ma i coccoli occhio 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 no 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 andiamo no torniamo indietro no andiamo quanti? torniamo indietro così via ciuff andiamo fino alla fine eh poi vediamo qualcosa qua non posso più riprendo riprendo oh questa margherita a correre eh a correre così veloce con quelle gambe perché io non riesco non funziona la marcia ecco 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 super velocità super velocità super velocità super velocità basta gara è stata è stata bellissima aiuto mamma mia cos'era? c'era un c'era un puntino ok ahhhh 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 ffff ahhhh ahhhh c'era un alberello tipo con i fongiglioni e un spino Un spinnaker, piccolo spinnaker E' un'escoriazione Cosa è? Ah Ponzio Ponciarello Che vedo? Ci vorrebbero i guanti per la bici Cosa? Ah si, i guanti, hai ragione Quelli senza maniche, senza dita, senza unghie Ehi Sopraremo Se sopravviverò A questa avventura qui Siamo arrivati? L'ultima qua, che sei? Mi è arrivato indosso qua Un palo, un palo Un palo Schivato Schivato Sì Sì Oh che beiii finnicotteri Ecco abbiamo fatto 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 Parma Abbiamo fatto tutta la strada che abbiamo fatto con quelli che abbiamo incontrato All'indietro Venite? Dove venite? Eh non abbiamo finito Come non abbiamo finito? Che mi strada? Ah ma adesso la strada è pericolosa Fermati Fermati E' pericolosa E' pericolosa Io mi ricordo la strada in cui abbiamo fatto con i nostri amici E' stata una bellissima avventura eh I video di oggi penso che può terminare qui Abbiamo detto cosa Cosa ci è successo Ci sono Di tutto incidenti tagli qua Un taglio là Ma proprio all'avventura eh All'avventura E vediamo Vediamo E non resta altro che iscrivervi al canale E cliccare la campanellina Lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto Eeeh Ma scusate Margherita Tori il canale Sarà Clicca no? E noi ci vediamo domani con un nuovo nuovissimo video Ciao